Dopo quasi tre anni di indagini sono stati arrestati questa mattina i presunti responsabili dell'omicidio di Marcello Bruzzese. Un delitto che a Pesaro funestò la serata di Natale del 2018 con l'uomo, fratello del collaboratore di giustizia Girolamo Biagio Bruzzese, crivellato da colpi di pistola calibro 9 all'esterno della sua abitazione in via Bovio in pieno centro storico. A condurre le indagini i carabinieri del ROS supportati dai comandi provinciali di Pesaro, Ancona, Reggio Calabria, Catanzaro, Brescia, Napoli, Torino, Vibo Valencia e del GIS gruppo intervento speciale. Una maxi operazione che ha dato oggi esecuzione di provvedimenti di fermo di indiziato di delitto da parte delle procure di Ancona e Reggio Calabria nei confronti di quattro persone riconducibili all'andrangheta calabrese e accusati a vario titolo di associazione di stampo mafioso, omicidio, porto e detenzione illegale di armi. Arriva dunque a una svolta un delitto che ha lasciato sgomenta la città di Pesaro che avvertì il braccio delle cosche allungarsi in modo inquietante dentro un'isola felice apparentemente estranea alle dinamiche mafiose. Marcello Bruzzese fu ucciso a Pesaro dove alloggiava come destinato ad una località protetta di rifugio in quanto fratello di Girolamo Bruzzese, personaggio che fu organico alla cosca Crea della piana di Gioia Tauro dalla quale si dissociò nel 2003 dopo aver attentato nell'ottobre dello stesso anno alla vita del boss Teodoro Crea. Le indagini dei Carabinieri del Rosso hanno consentito di identificare Michelangelo Tripodi che assieme ad altri due indagati Rocco Versace e Francesco Candiloro fermati dalla DDA di Ancona è ritenuto uno degli organizzatori ed esecutori materiali del delitto. Le indagini hanno fatto luce su un omicidio scatenato dal movente della vendetta trasversale di stampo mafioso e hanno permesso di rilevare che i sicari in questione del tutto incensurati stessero pure progettando altri delitti. Un omicidio Bruzzese al quale i Carabinieri hanno attribuito una valenza strategica necessaria a rimarcare l'operatività della Cosca Crea. Abbiamo raggiunto questo risultato grazie alla direzione della procura dei colleghi del ROS che sono in capofila nell'indagine investigativa. Noi abbiamo dato il nostro supporto invece perché ovviamente l'omicidio è avvenuto in questo territorio. La parte del reparto operativo ha collaborato in piena sinergia con il nostro raggruppamento operativo speciale. Indagine straordinaria per metodo, per la tecnologia impiegata, per la ricostruzione storica del fatto, per aver constatato che anche dei soggetti che commettono un crimine così importante vengono fuori da insospettabili incensurati. Uno a Brescia, di origine sempre calabrese, e altri in Reggio Calabria, in Calabria, in sostanza a Palmi. L'operazione del delitto Bruzzese diventa anche una gratificante forma di congedo per il comandante provinciale dei Carabinieri Luciano Ricciardi che dopo più di quattro anni ha lasciato oggi l'incarico al vertice del comando pesarese dove rimarrà comunque operativo con incarichi speciali. Il nuovo comandante provinciale sarà Gianluigi Cirtoli proveniente dal comando di Forlicesena per un passaggio di consegne avvenuto oggi ad Ancona alla presenza del comandante della legione Marche Fabiano Salticchioli. Per me oggi è un momento anche emozionante perché lascio il comando provinciale dopo oltre quattro anni di gestione, di direzione di questo comando. Sicuramente il mio pensiero va ai cittadini ai quali noi Carabinieri abbiamo dato il servizio, il servizio alle comunità. Ricordavo prima la pandemia che è stato un momento fondamentale per noi per rimarcare quello che è cos'è la prossimità per noi, la vicinanza ai cittadini.